Ben ritrovati in studio, continuiamo con il nostro telegiornale. Adesso parliamo di Caronia, nell'ambiente politico molto caldo. Negli ultimi giorni a Caronia abbiamo intervistato l'assessore Vittorio Alfieri nei confronti del quale nei giorni scorsi è stata chiesta da parte del Consiglio Comunale la mozione di sfiducia. Vediamo il servizio. I consiglieri comunali di Caronia Lamonica, Lax, Barna, Rausa, Travagliante, Donofrio, Cuffari hanno chiesto con una mozione la revoca dell'incarico all'assessore Vittorio Alfieri. La richiesta è scaturita dopo quella che i consiglieri definiscono l'ennesima bravata messa in atto dal componente della giunta del sindaco Beringheli. A mezzo un volantino l'assessore ha dato sfogo alla sua vena creativa elaborando una rivisitazione di una statua presumibilmente un bronzo di riace con un sacchetto di spazzature in mano. Lo sfondo dello stemma del comune di Caronia e l'intitolazione A Caronia stanno per iniziare le Olimpiadi dell'inciviltà, disciplina, lancio del sacco dell'immondizia per poi continuare con delle frasi ironiche e fantasiose che poco o nulla hanno a che vedere con il ruolo che lui stesso ricopre o con il ruolo di amministratore serio e rispettoso. Esternazioni ritenute dai firmatari della mozione dannose per l'immagine dell'intera comunità caronese. L'assessore Vittorio Alfieri replica così ai firmatari della mozione. Innanzitutto il manifesto che è in questione è assolutamente sarcastico. Il sarcasmo è una maniera amare e pungente di dire la verità e la verità fa male e si inserisce in una gestione dei rifiuti che negli ultimi mesi a Caronia ha visto un deciso miglioramento sia qualitativo che quantitativo e anche ad un'altra svolta fatta dall'amministrazione Beringhelli negli ultimi mesi ovvero la comunicazione perché attraverso la vostra emittente attraverso il canale YouTube, la pagina Facebook e l'account Twitter il comune di Caronia ha un rapporto diretto con i cittadini. Quindi si è voluto strumentalizzare questo manifesto che invece rappresenta la fase avanzata della gestione dei rifiuti dove dalla fase generale si passa alla fase specifica in cui vogliamo gratificare e premiare alcuni cittadini virtuosi con degli sgravi sulla bolletta per chi adotterà la compostiera domestica facendo dei progetti a scuola con i ragazzi e soprattutto mettendo delle macchinette per il recupero della plastica e dell'alluminio che consentiranno un risparmio da parte dei cittadini. Il rovescio della medaglia purtroppo è quello di punire i cittadini che con la loro condotta non proprio lineare e pulita sporcano anche moralmente l'immagine di Caronia. E con l'assi accusa, con questo volantino, di aver dannezzato le immagini di Caronia? Allora, ripeto, non voglio scendere nel lagone politico perché in Consiglio Comunale ne sentiremo delle belle. Io mi permetto di dire che gli otto consiglieri perché sette sono i firmatari ma ce n'è un altro accusano l'assessore Alfieri di irriverenza. L'irriverenza vuol dire mancanza di rispetto e di considerazione. Io lascio giudicare ai telespettatori di Onda TV che, mi permetto di dire, in altre circostanze hanno avuto modo di vedere e sentire l'assessore Alfieri se è più lesiva per l'immagine di Caronia questo volantino sarcastico oppure il fatto che tra quei firmatari c'è gente che in Consiglio Comunale fa teatro, insulte. Lei presenterà le dimissioni oppure andrà avanti per il suo ruolo? Io personalmente non ho nessuna intenzione di presentare le dimissioni se il sindaco ritirà opportuno di ritirarmi la delega io sarò felice come lo sono in questo momento.